Siamo nel 2017. E che pensava? Il 1945? Devo andare... No, 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 no. Resti seduto, resti seduto. Ma state girando un film qua intorno? Un film? Eh, nel senso, va sempre vestito così. No, adesso ho anche di nero. Ah, beh, certo, anche io, spina. Ma che scemo. Senta, vuole che chiamiamo qualcuno, un familiare? Un medico. Chiamatemi mia figlia, Edda. Mi può dare il numero? La 2578. Tessera del fascio, lista femminile. Lo fai benissimo. Però sei proprio uguale a lui. Lui che? È il duce. Io sono il duce. Acqua e zucchero. Stai tranquillo. Sì.